Volare, oh oh, cantare, oh oh oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Sabato 20 maggio 2023, buongiorno e buon fine settimana. Allerta meteo oggi in Sardegna per un marcato maltempo, con piogge diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. Sul litorale occidentale i cieli sono molto nuvolosi o coperti, con piogge e rovesci. Alla Maddalena la giornata è perturbata, con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. La temperatura massima registrata è di 18 gradi, la minima di 16 e lo zero termico si attesta intorno ai 2768 metri. La pressione al suolo è di 1.007 millibar. I venti sono forti e provengono da Est e Levante. Il mare, sulle bocche di Bonifacio, è mosso. Diamo ora uno sguardo all'edicola di oggi. L'Unione Sarda, Calderoli, un piano per l'isola, l'esponente di governo a Cagliari per spiegare le novità sull'autonomia differenziata. Allerta meteo in Sardegna, oggi e domani piogge sparse. La nuova Sardegna, macchinanti incendi, oltre 2.000 uomini in meno. A Olbia, l'attitante si vanta sui social arrestato dai carabinieri. Romagna, sardi in prima linea per fronteggiare l'alluvione. Infine, 60 matrimoni dichiarati nulli in Sardegna dalla Chiesa. Vediamo ora la rassegna stampa trasmessa questa mattina dal Tg La Sette. Il giornale, dopo aver visto Corriere della Sera Repubblica e Stampa, vedete il titolo principale, è questo, sistema nel mirino, l'Emilia Rossa. Finisce in procura, aperte le prime inchieste, Ravenna si indaga per omicidio colposo nel mirino, le PM, la mala gestione ce l'ha innaffa, finta di nulla, non sono una tecnica, anche se queste poi sono procedure d'ufficio. L'editoriale è affidato a Paolo Guzzanti, oggi che parla, appunto si occupa dell'uscita di Silvio Berlusconi dal San Raffaele, il Cavaliere e la Romagna. Berlusconi che ritroviamo in taglio alto, eccolo qui, il cab dopo il buio vinto ancora. Berlusconi lascia il San Raffaele all'affetto di Meloni e Salvini dalla paura ai video, 45 giorni vissuti con grinta. Ricciaron Zulli ha continuato a dare la linea per le nostre battaglie, così il giornale. Andiamo a vedere il messaggero. Alluvio nei paesi senza cibo, come dicevamo, insomma, diventa complicato l'approvvigionamento, dai borghi rimasti isolati, gli appelli della disperazione. Stiamo finendo le scorte, allarme ne ravennate per la marea di fango in riviera, è stato a rischio per le disdette, tutto il litorale è stato devastato e chiaramente poi ci sono anche le disdette di chi teme, appunto, che queste situazioni possano ripetersi. Ancora dal messaggero in taglio alto, vedete il G7 avvisa Cina-India, stop aiuti a Mosca F-16, Biden dice sì all'addestramento dei piloti ucraini. Il fatto quotidiano, i grandi della guerra, no, la pace si è caccia, non si fermano più, gli siete ripudi ai negoziati, ok, USA, gli F-16, Erdogan con Putin, niente intese, su nuove sanzioni ai russi, Lega e Forza Italia a Meloni, no, ai jet, è questo, è quello che appunto offre oggi il fatto quotidiano, che per quanto riguarda l'alluvione riserva uno spazio in taglio alto e va anche il fatto sull'argomento, diciamo, delle inchieste, due inchieste sulla mancata cura degli argini, degli argini, Ravenna, nuovi, allerta meteo, sindaga per disastro colposo. Andiamo su Libero, Libero come al solito non utilizza mezzi termini, il mercante di uteri, questo buffone vuole darci lezioni, il premier canadese Trudeau si dice preoccupato per il rispetto dei diritti che in Italia, proprio lui che si travestiva da nero e permette la maternità surrogata e questo è l'argomento che tratta Alessandro Sallusti nel suo editoriale in prima pagina. Andiamo sul sole 24 ore, welfare, la spesa, corre di 100 miliardi, conti pubblici, i costi crescono del 4,3% tra il 2019 e il 2025 come emerge dal DEF del governo. Dopo la pandemia ora pesano gli adeguamenti delle pensioni all'inflazione, poi dubbi sul debito USA e tassi FED, non frenano la corsa delle borse, intaglio alto e le conseguenze dell'alluvione, industria colpita al cuore ma siamo pronti a ripartire subito il piano acqua regionale. È un foglio che chiaramente presta attenzione a quelli che sono i danni e le conseguenze di questa alluvione per quanto riguarda proprio il discorso delle aziende. I primi conti che non tornano, così il titolo dell'intervento di Claudio Cerasa oggi sul foglio che dirige, critiche di Banca Italia, paure della Commissione, rilievi della Corte dei Conti, timori delle agenzie di rating, richiami della ragioneria, primi campanelli d'allarme sul futuro del governo. Il Quirinale li ascolta come orientarsi. In taglio alto, Chicco Testa firma questo pezzo davanti a disastri come in Emilia Romagna, non resta che resistere e adattarsi, come si chiede Testa, isolando l'eterno partito del no di burocrati e ambientalisti. Intanto torna il G8 con Kiev al posto di Putin. Biden dà una spinta decisiva alla Jet Coalition, a Hiroshima si tesse un'alleanza più ampia. Vediamo il manifesto. Ecco vandali, l'Emilia Romagna restituisce altre vittime dell'alluvione, 15 corpi recuperati, 15 mila degli spollati, si è costruito troppo, l'allarme dell'ISPRA, Maglia Nera per consumo di suolo, la regione una legge ce l'avrebbe, svuotata a suon di dero che denuncia Lega Ambiente. Anche il manifesto riporta appunto la notizia degli USA che hanno dato l'ok all'addestramento dei piloti per poi l'utilizzo degli F-16 in Ucraina. A venire tornano, pioggia e paura, questo purtroppo è quello appunto che alleggia, il rischio che alleggia di Movo, ora è Ravenna a rischio allagamento. Qui vedete la foto dei tanti volontari, delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, insomma che si stanno prodigando per prestare soccorso. La Grecia ributta in mare i migranti, una bruttissima storia, poi la vigilia delle elezioni in Grecia, un video dagli New York Times, profughi che sono stati riportati da terra su una nave della Guardia Costiera greca e poi fatti scendere su un gommone e lasciati alla deriva. 12 persone, c'era anche una mamma con il proprio bambino, sono stati poi salvati da una nave turca. Siamo sul resto del Carlino, corsa contro il tempo, vedete la foto, insomma, emblematica, l'alluvione in Romagna non da treguera, Ravenna assediata, l'incubo Frani in montagna, l'esercito degli Angeli del Fango, Bonaccini, aiuti, non polemiche. Questa è l'esortazione del governatore dell'Emilia Romagna. Sì, probabilmente non è questo, certo, il momento di lasciarsi andare alle polemiche. Adesso bisogna riflettere e prodigarsi e concentrarsi sui soccorsi. La verità, così la sinistra ha frenato le opere contro l'alluvione, appunto. Vittime del fanatismo ecologista, vasche di laminazione che hanno salvato il Veneto, non fatte, dighe stoppate, fiumi non puliti, fondi destinati al distesto idrogeologico, dirottati. Ecco le colpe della regione Emilia Romagna, prona all'ideologia green. Delegata alla prevenzione fino a sette mesi fa, la marziana Elish Line liquida il disastro con una supercazzola, dice, scrive Paolo Del Debbio. Mentre secondo Maurizio Belpietro, direttore della Verità, Bonaccini, commissario, proposta irricevibile. Velocemente la tempo, consiglino richiesti, polemiche al G7 in Giappone, preve Trudeau contro Meloni sui diritti LGBT, l'Italia mi preoccupa. Le leggi non sono cambiate, la replica di Giorgia Meloni e poi in taglio centrale, la foto sorridente di Berlusconi che lascia l'ospedale, rientra a casa dopo 45 giorni. Il tempo di Osho, il virgolettato, ovviamente un spazio ironico, satirico, farà tornare il sole.